abbiamo con noi oggi uno stigmatizzato buonasera buonasera da quanto tempo le sono apparse le stigmate ma guardi da circa tre anni e da quando mi sono apparse le stigmate ho lasciato il mio lavoro per ritirarmi in preghiera e per poter dar conforto e accogliere tutti i pellegrini che mi vengono a trovare sono tanti si e lei li riceve tutti certo da lunedì al sabato dalle 8 e 30 alle 14 e 30 e dalle 14 e 30 alle 18 e 30 il martedì e il venerdì solo su appuntamento scusi ma non si farà mica pagare no no sì o no ho capito si fa pagare no no accetto un'offerta libera minima di 300 euro ma lascio il regolare fattura è tranquillo ah quindi lei ha una partita iva come libero professionista ma in che categoria stigmatizzato e prima che professione faceva era un fachiro ci racconta come le sono venute le stigmate sì io stavo dormendo sul mio letto di chiodi quando a un certo punto dalla cucina la mia moglie mi ha svegliato perché si è messa a urlare aiuta aiuta c'è un topo vieni vieni si chiede mi sono svegliato all'improvviso mi son tirato su di colpo e per miracolo mi sono apparse le stigmate lei è un cialtrone sì però quella categoria per metterla sulla partita iva non l'ho trovata e quindi ho messo stigmatizzato quella c'era tra l'altro io pago le tasse al vaticano ma le pago no 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 Grazie a tutti